86 anni? Ma riporta bene. Guarda, partecipare è il mio dovere, è un diritto e dovere, partecipare. Adesso sono fatto così. Gli anni stanno passando, però l'Italia non mi piace tanto. Perché? Perché è governata da uno Stato straniero. Attenzione, non voglio offendere i credenti, io sono rispettoso, io uso la ragione, il Vaticano si intromette troppo nella politica italiana. Io ho vissuto in Francia 12 anni, c'è una diversità enorme. Però adesso qualche speranza ce l'ha? Nota qualche segno di cambiamento? Il cambiamento è che le vedo più donne, questa è una speranza che ci dà, vedere più donne così qua, è una speranza. Grazie. Grazie.